Le impronte digitali in questi giorni si sta parlando molto, sono rimaste obbligatorie ad oggi nel decreto concretezza per i dirigenti scolastici e per il personale ATA. I dirigenti hanno anche scritto ai vice premier perché questa norma venga stralciata. Cosa pensa riguardo a questo argomento? Ma quello che ho già detto in altre occasioni è stata solamente una questione di trasparenza, non si va a misurare l'orario di lavoro dei dirigenti assolutamente, ma poi dopo tutto dovrà ancora essere regolamentato, in conseguenza è solamente un'indicazione che in questo momento è presente e che ha solamente lo scopo di attestare che il dirigente si trova in quel momento sul luogo di servizio. Grazie a tutti.